Fox ripeti quello che ha detto sui discorsi di Gaetano, per favore Gaetano ha un discorso di un'ora che non pecherà un c***o di nessuno Prima che inizi a dirvi tutto Oh! Basta! Dove ho qualcosa di una bedwars? Accettatemi un TPA Ma che di c***o pedofilo! No, rifiuto! Non hai permesso! C'è il versettato di me! Non siete sempre belli, ma facci il pedofilo! Gaetano dice ottene che si stupra sui decenni Eh la bedwars, lo devi spiegare! Già siamo i venti della vaniglia! Cosa c***o facciamo delle bedwars? Di mappa! Napoletà è di... Oh che da morto, mochid! Lo sappiamo! Gaetano dovrebbe dire di aprire l'evento Tipo 20 minuti prima Così a 20 minuti fosse un discorsetto inutile E poi può aprirlo A me la facciamo il tempo No, c'è solo 2v2, 1v1 C***o! Mi hanciolato il giro di giro Mochid, vanno! No, ma la sfinchietta! Dio ma... Orgo! Corri, corri! C'è la finanza! Non so! Sì invece! No! Non ridere! No! Porco! Eh beh... Beh, va a cagare al cazzo, è bello squadra, va a cagare al cazzo, hub, survival, fanno cagare alla minchia. Ho offerto tutte le botole, però le dati non se le stai rifiudendo, aiutami da perdere. Comunque questa non vorrei dire, ma è una mappa da 3v3. Non so che cosa girava per la testa Gaetano quando ha preso questa mappa e ha detto, ma sì dai facciamola per doubles. Ma come Gaetano volevi dire Gaetano? Ah, che casino, è che hai spazzato roll? Ti spawn, sono fatti di merda. Che metto qua? Dai andiamo in base gialla, andiamo in base gialla. È caduto malissimo. Oh, va a f***llo. È caduto. Non posso darti n***a l'ordine. Ma non posso cadere così? No, va a f***llo. Sì, è il copo di nuova. Sì, sì, sì. Ok, aspetta che arrivo pure io. Andiamo a fermi insieme. È una m***a. No, va a f***llo.